Ancora morte sulla 417 bis Gela Catania e di due vittime il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato all'altezza del chilometro 3800 in territorio di Mineo. Nel terribile scontro frontale hanno perso la vita due uomini ad essere coinvolto in un areno Clio a bordo della quale viaggiava Angelo Quaceci, 43 anni, originario di Catania ma residente a Paternò, e una Fiat Panda intestata ad un'associazione sociosanitaria cui si occupa del trasporto di pazienti che devono ricorrere a cure mediche in ospedali o strutture sanitarie Alla guida dell'auto medicalizzata c'era Antonio Messina, 67 anni, 10 reale. Entrambi sono morti sul colpo. Nelle due vetture coinvolte non viaggiavano altre persone. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Mineo e del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 ma per i due occupanti delle auto non c'era nulla da fare. I pompieri hanno faticato non poco per estrarre i corpi delle vittime dalle rispettive auto incastrati tra le lamiere all'interno dell'abitacolo.